Nella borsa di una donna. Nella borsa di una donna possiamo trovarci dentro tanto. Quante cose. Si può pensare che dentro c'è tutta la sua vita. Magari c'è un libro che non riesce a finire e pochette piene di trucchi per coprire quella imperfezione che non la fa sembrare perfetta. La borsa di una donna riconosce le sue mani. E quante volte vi è capitato di chiedere a una vostra amica o al vostro ragazzo, mi vuoi prendere il rossetto? Il telefonino? E loro non ci sono riusciti a trovarlo. Basta che entrate, invece la vostra mano, esce il rossetto, esce il telefonino. Quante volte è successo così? Quante? Non posso immaginare. Ci sono miliardi di scontrini e poi nascosti in una tasca ci potrebbe essere un biglietto per quel viaggio che lei sogna ormai da anni e che ancora non è riuscita a fare. In una tasca più grande poi è nascosto il telefonino, dove sembra, sembra che ti sia nascosto il suo più grande amore. Ci sono poi le sue chiavi, con l'ossessione di perderle e di lasciarle da qualche parte. La borsa di una donna a volte può rivelare tanto dei suoi segreti. Può esserci anche spazio per un nuovo amore. Spazio per sorridere e per perdonare.